Scontro frontale ieri sera intorno alla 23 che ha mandato in tilti il caotico traffico di rientro dal mare. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Agropoli Nord e Sud, sulla strada provinciale 430, meglio nota come Cilentana. A scontrasti frontalmente una Renault Clia e un Audi A4. Sulla prima auto due giovani di Aversa, sull'altra una donna del posto. Le tre persone ferite e con politrauni sono state trasportate all'ospedale di Vallo della Lucania, dei sanitari del 118. Sul posto gli agenti della postrada di Vallo della Lucania, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è andato in tilt, visto che le vetture sono state dirottate nel centro cittadino di Agropoli, in attesa della rimozione dei veicoli convolti nel sinistro. Gli inquirenti, dopo i lievi del caso, hanno ricostruito la dinamica dello scontro.